LORED KURO Ammira, la seconda lama mortale. Genichiro. Se pensi di cambiare il destino di Ashina con una cosa simile, ti stai sbagliando. Lupo. Nessuno ha diritto al retaggio del drago. Nessuno merita quel peso. Vorrei ci fosse un altro modo. Va bene. Un'ultima volta. Esatto. Facciamola finita. Un'ultima volta. Darò gloria ad Ashina. Lascerò che Ashina venga distrutta. Cosa sapere. Acisi. Carmi ogtre. Se creative. Prima. Alla fine, io ero inerme, ma con il sangue del drago che le scorre nelle vene. Così si chiude la lunga notte di Ascina. Patetico nipote. Questo è il tuo ultimo desiderio. Vedere il ritorno di Ascina dalle viscere dell'aldilà. E questo significa Sekiro... ...che devo distruggerti. Vi è Sekiro! ... ... Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie per la visione 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 Recidi questi Grazie per la visione 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 Grazie per la visione